Un concerto per due cori, la settimanote e il catenaccio, con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore dell'associazione pattese Crisalide, costituita per rispondere ad un'emergenza sociosanitaria che coinvolge numerose famiglie del territorio e non solo. L'aumento repentino e costante dei bambini con disturbi dello spettro autistico. La manifestazione si è svolta al complesso San Francesco di Patti. La Crisalide è un'associazione neocostituita nel mese di marzo, nata dall'esigenza di genitori che hanno dei ragazzi con disabilità di trovare delle risposte che purtroppo le istituzioni non danno. I nostri sono per lo più ragazzi autistici, quindi le terapie e gli interventi vanno personalizzati sulle difficoltà dei ragazzi, però sicuramente realizzeremo dei laboratori che possono essere educazionali per l'inclusione anche lavorativa o terapeutici per chi ovviamente ne ha bisogno. Già abbiamo in cantiere per il mese di dicembre un altro spettacolo e poi speriamo con l'anno nuovo di realizzare i locali, abbiamo già iniziato con la generosità di tanti, la ristrutturazione di alcune aule, altri interventi ancora devono essere iniziati ma abbiamo già trovato gli operai che generosamente si sono offerti e quindi le attività in concreto per i ragazzi saranno intraprese sicuramente nell'anno nuovo. La raccolta folding in questo momento consiste nel sistemare i locali affinché si possano attivare tutte le iniziative e i servizi che noi vogliamo fare per questi ragazzi. I locali che abbiamo avuto in comodato questo gratuito si presentano in buona condizione ma necessitano di manutenzione, necessitano di particolare attenzione proprio per adeguarli alle esigenze delle attività che noi vorremmo correre in essere e quindi necessitano i fondi necessari per fare questo. Abbiamo l'onore e il piacere di avere fra di noi un coro che viene da Bolzano, il coro Catinaccio, un coro composto da soli uomini e che farà un concerto di musica alpina, musica di montagna e che sarà in beneficenza a favore dell'associazione La Crisalide, una nuova associazione che si è composta a patti per aiutare le famiglie di ragazzi affetti dall'autismo e non solo. L'evento è nato intanto da un rapporto che abbiamo da un tramite che è Roberto Catania, un tenore originario di qui, di Gioiosa, che però vive a Bolzano. Noi abbiamo fatto con lui un concerto a Natale, un concerto insieme, diciamo, coro e tenore e da lì è nato un rapporto di amicizia, un rapporto di collaborazione che ci porterà anche a Bolzano adesso ad ottobre. Coro Catinaccio propone musica popolare di montagna e di canti alpini, canti alpini della comunità alpina e canti popolari delle comunità montane. Si propone di divulgare questa musica che si sta ormai perdendo e quindi andando a dimenticarsi ed è secondo me una cosa buona, positiva, perché tiene ancora vivi i valori ereditati. Allora, Roberto Catania, che è il nostro tenore con il quale abbiamo avuto modo di fare delle manifestazioni in passato, ci ha proposto di fare un gemellaggio con questa realtà e noi abbiamo accolto favorevolmente l'occasione. Adesso loro sono ospiti qua, mentre noi andremo in Trentino, a Toadige, il 18, 19 e 20 ottobre. Come si fonderanno insieme il vostro tipo di musica con il loro? Allora, noi intanto presentiamo dei brani in siciliano. Sono due brani celebri, famosissimi e dopodiché introduciamo un brano alpino. Per concludere con forse l'inno per eccellenza che è Signore delle Cime. È la prima volta che noi ci spostiamo oltre Regione per fare questo gemellaggio e spero che sia la prima di una lunga serie.